Alle 14.30 il giudice Stefano Cascone ha letto il dispositivo della sentenza per quanto riguarda il filone falso in prospetto per il crack Etruria. Per i primi due prospetti è intervenuta la prescrizione, per il terzo tutti assolti perché il fatto non sussiste. Gli imputati, l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex DG Luca Bronchi ed il direttore Davide Canestri. Al termine dell'udienza sono diverse le sensazioni tra accusa, tra parti civili ed ovviamente tra i protagonisti. Intelleggeremo le motivazioni e valuteremo al momento. Questa vicenda è una vicenda che non nasce in maniera serena, nasce come sapete tutti a fronte anche di un cancan mediatico, di una situazione che ha interessato anche le istituzioni, che ha determinato, a mio modo di vedere, le sanzioni stesse. Credo che il giudice lo abbia perfettamente compreso, ma aspettiamo di leggere le motivazioni. Per i risparmiatori è una sentenza che dovremo vedere le motivazioni, ma che in realtà pone in discussione il ruolo che è stato di Consob. Quindi da parte nostra sarà necessario poi valutare e vedere anche che cosa in realtà è successo circa l'autorizzazione da parte di Consob. Forte la delusione dei risparmiatori. Colpa la danno sempre al più piccolo, però a questo punto sarà la Procura della Repubblica a tirare le soluzioni per quanto riguarda questa sentenza di oggi.